Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Qualche mese fa sono riuscito a guadagnare 150€ in modo completamente gratuito semplicemente sfruttando quella che era una promozione promossa da American Express verso i nuovi iscritti. Per chi non mi conoscesse, io sono Andrea, sono un ingegnere informatico, mentre qui su YouTube parlo in modo verticale di come guadagnare con le piattaforme fintech. Quindi come guadagnare sfruttando quelli che sono i bonus di benvenuto, le promozioni, le offerte, i piani di cashback promossi da siti per investire, carte, conti correnti, app per comprare e vendere criptovalute, insomma tutte queste piattaforme. Se anche a te interessano questi argomenti allora valuta di iscriverti al mio canale e di attivare anche la campanellina perché esce un video ogni settimana e in più lascia un bel mi piace sotto a questo video così che YouTube possa consigliarti altri video come questo. Detto ciò, iniziamo! Allora, American Express detta anche Amex, che cos'è? È una carta di credito, quindi attenzione perché non è un conto corrente. Se non sai quella che è la differenza tra queste due cose ti consiglio di fare una breve ricerca su Google perché è molto importante avere chiaro il concetto. Comunque detta molto in breve, American Express è un'azienda che tramite la sua carta di credito, questa per intenderci, ovviamente l'ho oscurata per ovvie ragioni, ti presta dei soldi, ti fa un credito e poi tu dovrai restituire questi soldi o il mese successivo in un'unica soluzione oppure potrai anche scegliere di restituire l'importo che American Express ti ha prestato, quindi il debito che hai nei confronti di American Express, suddividendo il pagamento in diverse rate nei mesi successivi. Ovviamente io consiglio, se è possibile, di pagare l'intero importo il mese successivo perché se invece vai a pagare a rate, andrai a pagare anche degli interessi. Ed è proprio qui che American Express e le altre aziende di carte di credito vanno a guadagnare. Fatta questa doverosa premessa su che cos'è American Express, andiamo a vedere adesso nei dettagli come si fanno guadagnare questi 150€, ovvero in cosa consiste questa promozione. In particolare andiamo a vedere, uno, la validità, ovvero da che giorno a che giorno è valida questa promo, da che giorno a che giorno si può partecipare. Due, la meccanica della promozione, ovvero quali sono i passaggi che bisogna seguire, cosa bisogna fare per ricevere i premi, perché sì, i 150€ è un premio, ma come vediamo, vi spiego tra un attimo, c'è anche un altro premio. Vi spiego poi anche come vi viene dato questo premio di 150€ e con che tempistiche e insomma andiamo a vedere tutte queste cose dal punto di vista tecnico. Terzo e ultimo punto che affronteremo, ma non meno importante, perché andremo a vedere quelli che sono i requisiti necessari per poter partecipare alla promozione. Ovvero chi può partecipare e chi no, perché ci sono appunto dei requisiti. Ah, e rimanete con me fino alla fine di questo video, perché proprio verso la fine vi dirò due trucchetti che potrete usare per essere sicuri di portarvi a casa questi 150€. Parliamo di validità. Quando è che valida questa promo? Da che giorno a che giorno? La promozione di cui vi sto per parlare, di American Express, è valida fino al 26 aprile di quest'anno 2022. Però attenzione, perché questa tipologia di promozioni spesso e volentieri vengono poi rinnovate di mese in mese. Quindi se state guardando questo video in una data successiva al 26 aprile, non scoraggiatevi, ma piuttosto guardate qua sotto in descrizione. Perché nella descrizione dei miei video qui su YouTube, anche di quelli più vecchi, trovate sempre una serie di link di tutte le promozioni e le offerte in corso di validità, perché tengo aggiornate costantemente le descrizioni anche dei video più vecchi. Quindi se state guardando questo video prima del 26 aprile, perfetto, nessun problema, qua sotto in descrizione c'è il link per accedere alla promozione. Se invece state guardando questo video dopo il 26 aprile, guardate comunque qua sotto in descrizione perché potrebbe comunque esserci il link per iscriversi ad American Express e quindi per ricevere il premio di 150 euro, o comunque se non c'è quel link specifico ce ne sono comunque altri di tutte le altre offerte. Vediamo adesso quali sono i passaggi che bisogna seguire per ricevere i 150 euro. Punto numero uno, bisogna iscriversi ad American Express utilizzando il link che trovate qua sotto in descrizione oppure anche nel primo commento, quello fissato in alto. Attenti bene perché quello che c'è qua sotto in descrizione non è un link qualsiasi che riporta al sito di American Express, è un link speciale tramite il quale avete accesso alla promo. In altre parole, se andate direttamente sul sito di American Express senza cliccare sul link che trovate qua sotto, non sarete idonei alla promo e quindi non riceverete i 150 euro. Una volta cliccato il link e qui siamo al punto 2, è molto semplice perché vi basterà seguire la procedura di registrazione. Vi verranno chiesti ovviamente alcuni vostri documenti per confermare la propria identità e anche i vostri dati anagrafici. Tramite questa registrazione quindi voi vi state iscrivendo ad American Express e riceverete a casa vostra la carta di credito blu di American Express. Sempre questa qui. Come vi accennavo poco fa non ci sono solamente i 150 euro come premio, che comunque adesso vi spiego meglio come fare per averli, ma c'è anche la carta stessa. Sì perché la carta stessa di American Express normalmente costerebbe 3 euro al mese, però con la promozione di cui vi sto parlando ci danno questa carta gratis per un anno intero. Quindi diciamo che andiamo a risparmiare, ci viene dato un premio, un incentivo, dal valore di 36 euro. Ovviamente lo dico qua perché se no so già che hai una domanda che me la ritrovo qua sotto nei commenti. Potete disdire poi la carta quando volete. Potete fare anche solamente l'anno di prova e poi dire va bene, ciao e grazie e ben andate. È tutto molto semplice, trasparente, non ci sono penali, cose di questo tipo. È tutto molto serio come cosa. Ma passiamo ora al succo del video, ovvero come fare per ricevere questi 150 euro, come ci vengono dati. Questi 150 euro gratis, come tra virgolette bonus di benvenuto, se uno segue questa promozione, si nascondono dietro un piano di cashback. American Express infatti non è solamente una carta di credito, ma include diciamo tutta una serie di servizi. American Express offre diverse carte, ognuna con le sue caratteristiche. Dalla più economica, che include giusto qualche vantaggio, alla più esclusiva, che include servizi, assicurazioni, vantaggi di ogni tipo, inclusi appunto nel canone mensile. Quella che interessa a noi però è la carta blu, la Blue American Express, che come vi dicevo prima costerebbe 3 euro al mese, ma per via di questa promozione sarà gratuita per tutto il primo anno. Con questa carta, con la carta blu, si hanno i seguenti vantaggi. 1. Assicurazione in fortuni di viaggio. 2. Programma rimborso acquisti, quindi siete tutelati per gli acquisti online. Prevendite per l'acquisto in anteprima di alcuni biglietti per concerti ed eventi. Servizio clienti, questo è importante, 24 su 24, 7 su 7, sono sempre operativi, rispondono al telefono, per email, insomma li potete contattare come volete. È un servizio veramente questo che io ho provato più volte e davvero rispondono subito, sono gentili, non ti fanno aspettare. Insomma, un servizio, secondo il mio punto di vista, molto buono. Diverse offerte e buoni sconto. Dall'applicazione potete accedere ad alcune offerte buoni sconto riservate ai clienti di American Express. E infine, ecco quello che interessa a noi. Con la carta blu si ha il vantaggio di avere un 1% di cashback su tutti, tutti gli acquisti. Ogni 100€ di spesa loro ve ne danno uno indietro. E so che possono sembrare pochi, può sembrare quasi niente, ma vi assicuro che per chi ha davvero tante spese, come ad esempio un padre di famiglia che ha le spese della casa, le spese della macchina, le spese per i figli, le spese di qua, le spese di là, anche un 1% di cashback sugli acquisti significa avere, alla fine dell'anno, anche centinaia di euro di cashback. E questo, considerato lo sforzo, è davvero un grosso vantaggio, perché l'unico sforzo che bisogna fare è quello di utilizzare una carta, ovvero l'American Express, piuttosto che un'altra, ad esempio quella della vostra banca qualsiasi, che non vi dà nessun cashback. Comunque, a parte questo 1% che diciamo è standard, il succo, il fulcro di tutta questa promozione, è che per i primi 6 mesi da quando richiediamo la carta, abbiamo diritto a un 5%, ripeto 5% di cashback sugli acquisti, ed è tantissimo. Con questa promozione si ha diritto quindi al 5% di cashback sugli acquisti entro i primi 6 mesi, e comunque con un tetto massimo di spesa di 3.000 euro. Passati 6 mesi dall'apertura della carta, oppure raggiunti i 3.000 euro di spesa, ecco che il cashback ritorna all'1% standard. Ed ecco dove sono nascosti questi 150 euro, perché il 5% di 3.000 euro sono proprio 150 euro. Ovviamente non siete obbligati a spendere 3.000 euro per avere indietro il cashback, potete anche spenderne 1.000 euro, e ovviamente avrete il 5% di 1.000, ovvero 50 euro. Quindi sostanzialmente per ricevere questi 150 euro, non bisogna fare altro che spendere con l'American Express 3.000 euro entro i 6 mesi da quando avete richiesto la carta. Io ho fatto proprio in questo modo. Aspettate però a chiudere il video, perché se state pensando che non riuscirete mai a spendere 3.000 euro in 6 mesi, tra pochissimo vi svelo un, anzi due, trucchetti bonus, tramite i quali potete spendere per finta 3.000 euro e quindi assicurarvi di ricevere il bonus massimo di 150 euro. Prima di vedere questi due trucchetti, passiamo un attimo a vedere quelli che sono i requisiti per accedere a questa promozione. Requisito numero 1. Non bisogna essere già iscritti ad American Express. Questa offerta, infatti, è valida solamente per i nuovi iscritti. 2. Bisogna essere maggiorenni. 3. Bisogna essere residenti in Italia. 4. Bisogna avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. Attenzione perché l'Iban non può essere di una carta prepagata, quindi bisogna avere proprio un conto corrente. Quinto requisito, bisogna avere un reddito lordo anno di almeno 11.000 euro, quindi sostanzialmente se siete studenti non potrete fare questa promozione, o meglio non potrete proprio richiedere una carta di credito di American Express, perché potrebbe anche esservi richiesta poi la prova, quindi magari l'ultima busta paga, il contratto, insomma una prova di quello che poi andate a dire in fase di registrazione. Siete giovani, non avete una famiglia a carico e quindi fate fatica a spendere 3.000 euro, ma allo stesso tempo vorreste avere indietro il cashback e il bonus massimo di 150 euro. Non vi preoccupate perché ci sono una serie di modi tramite i quali potete spendere senza spendere davvero. Il primo metodo consiste nell'acquistare buoni oppure carte regalo. Ad esempio andate al supermercato, acquistate 300 euro di buoni Amazon, pagate con l'American Express ed ecco che risulta una spesa di 300 euro quando in realtà questi soldi sono ancora vostri, perché andate sul vostro account Amazon, caricate queste carte, questi buoni che avete preso ed ecco che avete 300 euro sul vostro account Amazon e prima o poi verranno usati. Potete fare anche poi in realtà la stessa cosa direttamente su Amazon acquistando i buoni elettronici, quelli digitali e avete lo stesso risultato. Oppure potete prendere delle carte regalo Netflix, delle carte prepagate, piuttosto che buoni di qualsiasi tipo. State solo attenti che non tutti gli acquisti vanno poi a contribuire a quello che è la spesa totale, l'ammontare totale per poi ricevere il cashback. Comunque tutti gli acquisti idoni o meglio la lista delle cose che non verranno conteggiate le trovate sul sito di American Express. Il secondo metodo consiste nel collegare la carta American Express a un account, a un conto PayPal e poi trasferire tramite questo conto PayPal i soldi dall'American Express a un altro conto PayPal, quello che potrebbe essere ad esempio dei vostri genitori e utilizzare quest'ultimo per fare i vostri acquisti. Oppure da questo account PayPal potete poi ritirare in qualche modo i soldi e farveli arrivare sul vostro conto corrente. Ecco che ancora una volta risulterà una spesa quindi idonea anche al programma di cashback senza che in realtà ci sia stata una spesa da parte vostra perché semplicemente state facendo circolare i soldi. Insomma se vi ingegnate un po' ci sono tutti questi trucchetti che potete utilizzare per spendere senza spendere quindi per essere idonei e per ricevere il bonus massimo, il cashback massimo di 150€. Bene, direi di avervi detto quello che dovevo dirvi, spero veramente tanto che questo video vi sia stato utile. Se comunque avete qualche dubbio, qualche domanda non esitate a scriverla qua sotto nei commenti perché a me fa sol piacere e soprattutto rispondo sempre a tutti. Non vi dimenticate di dare un'occhiata qua sotto in descrizione oppure nel primo commento quello fissato in alto perché oltre al link ovviamente di questa promo di cui vi ho parlato di American Express ho messo tutta una serie di link, di promo, di offerte, di bonus di benvenuto tramite i quali potete guadagnare anche centinaia di euro semplicemente facendo questa iscrizione oppure utilizzando queste piattaforme fintech. Lascia un bel mi piace se vuoi vedere altri video come questo iscriviti al mio canale Andrea Zaccarelli se non l'hai ancora fatto e fammi sapere qui sotto nei commenti se hai intenzione di iscriverti ad American Express. Detto questo noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao! Ciao!